Come il denaro per essere oltre che signore, anche onesto. Buongiorno signor Conte. Chi è? Oh buongiorno cara. Il suo vestito signor Conte, arrivederla. Ma che arrivederla? Dove vai? Il bacio del mattino cara? Oh, dimenticavo. Ci pensavo proprio stanotte. Che cos'è mai un bacio? È una parola detta un poco più da presso. Un istante infinito, una parentesi tra le parole...